Abbiamo Renato e Prabha e se sono qui con Don Francesco zitti zitti all'inizio gli abbiamo augurato una cosa, poi mi sono fatto io interpreto, ho detto agli sposi, ho detto a noi vi auguriamo che voi siete arrivati qua con tanti sogni. E voi sapete che oggi è importante sognare, non dormire, quello non ci azzecca niente, sognare sì, perché il sogno ci permette di pensare, di realizzare qualcosa di importante e di bello, tra l'altro io lo spiego sempre in parrocchia, il sogno è legato ad una virtù teologale, alla virtù della speranza. E allora l'agurio che abbiamo fatto proprio all'inizio agli sposi è noi vi auguriamo che voi possiate realizzare tutti i sogni che portate nel cuore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!